Promuovere la sicurezza e l'educazione stradale, due elementi fondamentali che acquistano ancora più importanza dopo i dati ACI-STAT diffusi pochi giorni fa che hanno messo la provincia di Lucca al secondo posto in Toscana per numero di incidenti. È l'obiettivo principale del tavolo collaborativo tra la motorizzazione civile di Lucca, ACI-Lucca, Confarca e Unasca attraverso una serie di iniziative che prenderanno il via a ottobre e si concluderanno nel mese di dicembre 2024. Il programma è stato presentato nella sede della motorizzazione di Lucca da Cuono Esposito, in rappresentanza della stessa motorizzazione, insieme al direttore di ACI-Lucca, Luca San Giorgio, al vice sindaco di Lucca, Giovanni Minniti, all'assessore di Capannori, Davide Del Carlo e ai rappresentanti Unasca e Confarca, Alessio Romani e Marco Abbondandolo. In particolare abbiamo coinvolto anche l'ASL per avere un supporto medico nel confronto diciamo con gli over 65 anni e l'associazione Sorriso di Elisa per riuscire a parlare al cuore dei ragazzi. Noi faremo un'iniziativa legata ai meno giovani, quelli che hanno più di 50 anni di patente e poi i ragazzi invece neopatentati. Comunque l'importante è realizzare pillole formative per l'obiettivo comune della sicurezza e strada in cui tutti noi siamo impegnati.